La casa è il posto in cui ci sentiamo al sicuro, quello in cui abbassiamo le nostre difese rispetto a quando siamo fuori. Ma questo non sarà il caso di oggi, perché quando una famiglia in California aveva lasciato a casa la figlia più piccola insieme al fratello maggiore, non avrebbero mai potuto immaginare quello che vi dirò all'interno di questa storia. Benvenuti o bentornati, io sono Giada e oggi vi racconto la storia di Leila Fowler. Leila Fowler viveva a Valley Springs in California, con suo padre Barney Fowler e la sua matrigna di nome Crystal Walter e sette fratelli. Il 27 aprile del 2013, Leila, che aveva appena 8 anni, rimarrà in casa da sola con suo fratello Isaiah, mentre tutta, tutta la sua famiglia andrà a vedere una partita di baseball, che in verità distava solo all'incirca 5 minuti in macchina da casa loro. Precisamente alle 7 del mattino, Barney e Crystal chiedono a Leila se volesse andare con loro a vedere la partita, e inizialmente accetta, ma poco prima di uscire di casa Leila cambia idea. Crystal e Barney a questo punto svegliano Isaiah per dirgli di prendersi cura di sua sorella, come tra l'altro ha sempre fatto, e gli dicono che loro non sarebbero rimasti per molto fuori casa. Il tempo passa e Leila, che è una bambina di soli 8 anni, chiama di nuovo Crystal perché si stava annoiando, e le dice che Isaiah non si era ancora alzato dal letto, così la donna gli fa una telefonata per svegliarlo, e qualche minuto dopo ne riceve un'altra proprio da Isaiah, che appunto le comunicava e sua sorella aveva il mal di testa, e Crystal gli dice di darle una pastiglia di Tylenol che è un antidolorifico. A quel punto Isaiah va in cucina e prepara dei pancake, sia per lui che per sua sorella, e manda un selfie a Crystal. Tutto questo, di cui vi ho appena parlato, accadrà in un lasso di tempo che va dalle 7 del mattino alle 10.30, sempre del mattino. Alle 10.45 Isaiah richiama Crystal, e le dice che Leila è annoiata e non sa cosa fare, e la donna a questo punto suggerisce ai due di vedersi un film, così fratello e sorella nel salotto decidono di vedere il film in assoluto preferito di Leila, ovvero How to Eat Fried Worms. Isaiah rivelerà poi più tardi che hanno visto tutto tutto il film insieme, e una volta terminato riporrà il dischetto nella confezione e poi decide di andare in bagno. È mezzogiorno, Isaiah si trova in bagno e sente una voce sconosciuta che gli dice Guarda che io so che tu sei lì dentro, e subito dopo le urla di sua sorella. A quel punto Isaiah, completamente spaventato, si affaccia dal bagno e vede un uomo sovrastare sua sorella Leila, al che quando esce nota quello sconosciuto che in fretta e furia lascia l'appartamento dalla porta sul retro. Il ragazzino nel panico più totale chiama Crystal e le dice che un uomo aveva appena attaccato Leila, e infatti la chiamata al servizio di emergenza arriverà proprio da Crystal. Ora ci tengo a sottolineare che queste informazioni così dettagliate di quel 27 aprile le ho trovate all'interno di un'intervista lunga due ore, data proprio da il futuro, quello che poi conosceremo come l'avvocato della famiglia Fowler. E se noterete due versioni completamente diverse, perché alcune sono quelle che potete trovare benissimo su internet, quindi sui media, mentre invece altre quelle date da sia l'investigatore privato che l'avvocato dei Fowler. Inoltre in media non daranno una spiegazione così dettagliata di quel 27 aprile. Quello emerso dagli articoli del web è che fratello e sorella se ne stavano a casa da soli, che i genitori erano andati a una partita di baseball e che Leila stava dormendo nel letto a castello, in particolare quello più alto, e la parte poi di Isaiah che si trova in bagno e sente le urla e vede quell'uomo resta la stessa. Fortunatamente il ragazzino riuscirà a dare una descrizione dell'individuo, dicendo che era un ispanico dalla carnagione bianca, capelli grigi e particolarmente alto, addirittura più di un metro e novanta. Indossava una maglietta nera, maniche corte e dei jeans blu. Correndo nella stanza poi di sua sorella, l'aveva ritrovata completamente, ricoperta di sangue. Barney e Crystal erano arrivati a casa prima delle autorità e avevano trovato Isaiah seduto sul divano, dove in una mano aveva il telefono e nell'altra una mazza da baseball, mentre invece Leila era sdraiata a terra nella sua cameretta ed era incosciente. Questo è quello che trovate su internet, leggendo tutti gli articoli presenti e a disposizione sul web, mentre invece Mark, l'avvocato dei Fowler, ammette che Barney e Crystal, sì, arriveranno a casa prima delle autorità, ma troveranno Isaiah a parlare fuori l'uscio dell'ingresso di casa al telefono con il 911 completamente terrorizzato. Barney poi nota che la piccola aveva un taglio profondo sulla testa e quando l'aveva girata si rende conto che sul petto la povera Leila presentava diverse farite da taglio e il sangue, pensate che, continuava ancora a fuoriuscire. Il legale poi aggiunge che quando Barney prende in braccio sua figlia e la porta all'esterno era completamente ricoperto di sangue e Mark, l'avvocato, sottolinea che il sangue si trovava ovunque, era sparso ovunque all'interno di quella casa ma, attenti, perché non c'era sul corpo di Isaiah. Dapprima lo sceriffo arrivato sul posto e poi successivamente un paramedico praticheranno la manovra di rianimazione cardiovascolare il primo proprio sui gradini dell'ingresso dell'appartamento mentre invece il secondo altrove e nessuno menzionerà se il colpo di Leila era caldo oppure freddo. Poco dopo l'arrivo in ospedale a San Andreas verrà dichiarato il decesso della piccola Leila e l'autopsia riporta un attacco brutale era stata pugnalata più di 20 volte al petto e gli investigatori di Calaveras County sono convintissimi che non si tratti di un attacco random tanto che compiranno una serie di perquisizioni negli appartamenti vicini per accogliere possibili indizi e soprattutto il punto focale, la prova regina, tracce di DNA tanto che muoveranno le loro ricerche anche nei laghi e nelle riserve limitrofe Ma non solo bloccheranno tutte e tutte le strade che portavano all'abitazione dei vicini addirittura le persone dovranno mostrare i loro documenti agli agenti per passare e ritornare a casa propria proprio perché avevano letteralmente bloccato le strade con delle auto di pattuglia Per giorni interi però senza sosta la polizia aveva provato a dare delle risposte alla famiglia della piccola Leila e ai residenti del posto che erano estremamente preoccupati La famiglia di Leila Fowler era, ovviamente ragazzi miei che ve lo dico fare, distrutta Chi avrebbe potuto fare una cosa del genere? Soprattutto a una bambina così innocente? Ovviamente l'orribile vicenda tocca i cuori di tutta la comunità di Valley Springs e le persone non si sentivano più al sicuro all'interno delle loro case Quella è infatti considerata una comunità completamente fuori dalle altre città americane piene, piene di crimini ma i genitori non si fidavano più a lasciare i loro figli giocare liberamente all'aria aperta Così le autorità chiedono ai cittadini se avessero visto qualcosa di sospetto quel giorno e una vicina ricorda di aver notato un uomo uscire dall'abitazione dei Fowler e questa donna darà la stessa descrizione che Isia aveva fornito alle autorità In quel momento poi i detective, in una rassegna stampa comunicano di aver trovato delle impronte digitali e preso dei coltelli che si trovavano in casa Fowler per esaminarli e per capire se qualcuno di questi era stato effettivamente utilizzato per commettere il delitto e nel caso dicono di essere stra-stra convinti che ne avrebbero comunque potuto estrapolare del DNA Nel frattempo tutta la comunità di Valley Springs si unisce in un caldo abbraccio ricordando in una veglia Leila che aveva solo 8 anni la cui vita era stata portata via da un mostro che se ci pensiamo avrebbe potuto colpire di nuovo I just want to thank the entire community and all of our family and friends for the overwhelming amount of support that you've given my family it will never be forgotten Leila Fowler's mom grateful to the thousand who came together tonight for her 8 year old daughter 900 of them came by bus alone this amazing community who's come together in tragedy but will move forward in healing healing from the way Leila died stabbed to death inside her home It does not happen to a person you know much less a child you know and this cannot happen to a child in your very own class è il primo maggio del 2013 in California all'incirca 80 km di distanza da casa Fowler e un uomo di 44 anni dopo essere riuscito a intrufolarsi nell'appartamento di una donna prova a pugnalare il bambino più piccolo e addirittura a rapire la bambina entrambi figli di questa donna la polizia raccoglie dei campioni di DNA da questa persona pensando che a questo punto potesse essere lo stesso uomo entrato in casa Fowler ma i risultati non porteranno a nulla e tra l'altro l'uomo non somigliava nemmeno vagamente alla descrizione fatta da Aesia a questo episodio poi si aggiungeranno altri due tentativi di rapimento nella città di Yuba sempre in California a centinaia di chilometri di distanza da casa Fowler il primo è accaduto il 24 aprile se ci pensiamo esattamente tre giorni prima dell'omicidio della piccola Leila una ragazzina di 17 anni si stava incamminando verso scuola quando a un certo punto sente una porta sbattere le sue spalle e girandosi vede un uomo inseguirla fortunatamente la ragazza riesce a correre e l'uomo decide di tornare al suo camion e andarsene via il secondo invece accadrà il 30 aprile dove una 14enne sta per tornare a casa da scuola e vede anche in questo caso un camion parcheggiato un uomo si affaccia dal finestrino e le chiede di entrare ma lei completamente spaventata si rifiuta e a questo punto il guidatore inizia a inseguirla e la ragazza correrà ritrovandosi in un parcheggio di un negozio di nome Ryliss in questo modo fortunatamente la 14enne è riuscita a salvarsi e l'uomo scapperà via le due ragazze non si conoscevano eppure daranno la stessa identica descrizione di quello sconosciuto un uomo calvo che guidava un camion della Chewy la polizia prende seriamente questi due casi visto l'omicidio di Leila ma non sono convinti che quell'uomo abbia a che fare con il caso della bambina e a rendere le cose ancora più complesse ci sarà quella vicina che aveva visto lo stesso uomo descritto da Isia ma che smetterà di collaborare con la polizia e penso che più avanti ci arriveremo al motivo per il quale deciderà di non parlare più Tonight the crime scene, the house where this all happened is empty and silent tonight A setback for detectives today though is they tried to create a composite sketch of the suspect from a second person who said they saw that suspect running from the scene During the composite sketch meeting the witness recanted her previous statements and her identification of the man she saw running away She also refused to provide a description to the sketch artist so that a composite could be completed With a sketch no closer to being done what was an important witness to the suspect is no longer credible The news was not what residents who have been living in fear since the murder happened wanted to hear I was hoping they would have much more positive information for us I've got little children and I'm going to keep my doors locked and keep them safe I detective poi dicono ai cittadini di non preoccuparsi e di rilassarsi perché dai non sono in pericolo ma una residente particolarmente arrabbiata a questo punto dirà Come fanno a dire che nessuno di noi si trova in pericolo se il colpevole è ancora lì fuori? Diamine siamo tutti estremamente in pericolo e da quel momento ci saranno vagonate di chiamate ad ordini relativi a tutti quei sistemi di sicurezza per proteggere le proprie famiglie Di certo i residenti non si sentivano al sicuro e non erano nemmeno sereni non bastavano quattro parole della polizia per dire non vi preoccupate perché l'assassino non entrerà dentro casa vostra non busserà le vostre porte e non vi ucciderà né voi né i vostri figli La profiler in pensione dell'FBI Candance DeLong è estremamente convinta che il killer conoscesse la vittima e che l'omicidio di Leila non era frutto di un attacco random e conclude che probabilmente l'aveva commesso o un vicino di casa oppure addirittura uno della famiglia Fowler Tutte quelle rassegne stampa fatte per placare la gente non sono servite a molto anche perché le persone sapevano benissimo che il killer si trovava a piede libero e sempre secondo Candance le persone decidono di smettere di collaborare con la polizia perché temono per la propria vita e queste parole saranno molto importanti e ci torneremo dopo perché avranno un nesso Ora fino a quel momento Isaiah non è considerato dalla polizia come un sospettato ma semplicemente come un testimone estremamente collaborativo Non ci sono né indizi né una possibile pista su chi sia veramente il killer L'8 maggio un vicino anche davanti alle telecamere ammetterà però di non aver mai visto nessuno quel giorno uscire dalla casa dei Fowler FBI investigators started early this morning removing wood from the garage at the home of slain eight-year-old Layla Fowler Anybody that does something like that to an eight-year-old child Don who didn't want to use his last name lives right across the street from Layla's house He says he was in his front yard when the murder happened Nobody came out that door plain and simple I got a German wolf 95 pounds Every time somebody walks down that street they start barking When this all happened there was no barks Nothing E udite udite Isaiah da testimone estremamente collaborativo diviene il primo sospettato perché proprio l'11 maggio qualcuno verrà arrestato E rullo di tamburi questo non era niente meno che il dodicenne Aesia Fowler addirittura accusato di omicidio Ovviamente tutti sono rimasti scioccati e gli abitanti di Valley Springs infuriati perché hanno passato settimane intere nel terrore E si sentono confusi e ingannati non solo dalla famiglia Fowler ma a questo punto anche dalla polizia Tanto che un vicino dirà che a questo punto o la famiglia sapeva tutto e quindi ha deciso di nascondere le cose Oppure la polizia sin dal giorno zero aveva in mente che sia potesse essere il sospettato numero uno Ma hanno fatto finta di nulla fino appunto a quell'11 maggio E con il segno di poi la nostra cara Candace aveva ragione nel dire che la polizia sapeva sin dal primo giorno chi fosse il sospettato Infatti quando hanno indetto la rassegna stampa per dire alla gente ma va non siete in pericolo state tranquilli È perché sapevano che il colpevole fosse Aesia E in effetti sul quadro delle bugie secondo Mark il legale dei Fowler i cittadini a questo punto hanno completamente ragione I detective avevano puntato il dito contro Aesia in verità dal primo giorno da quel 27 aprile Infatti il ragazzino proprio il 27 aprile era stato interrogato per ben due volte La prima non appena la polizia era arrivata sul posto fuori la porta di casa Aesia racconta quello che aveva visto dando la descrizione esatta dell'uomo ispanico di cui abbiamo parlato prima Il secondo interrogatorio avverrà in centrale dove la polizia cercherà di capire meglio questa storia E Mark ci tiene a sottolineare che Barney non era con Aesia nella sala degli interrogatori E che i detective avevano fatto del loro meglio per evitare che il padre non si trovasse nella stessa stanza con il figlio Permettendo così che Aesia non richiedesse alcun tipo di supporto tipo ulegale Come sapete gli interrogatori però devono essere ripresi e registrati Infatti Mark ascolta l'audio e riferisce che la polizia dice a Aesia che hanno ritrovato delle tracce di DNA su di lui E nessuno in quella zona aveva visto quello sconosciuto ispanico che lui aveva descritto E non solo Mark ci dice che si sente la polizia chiedere Aesia di ripetere quella storia ancora e ancora Cioè luppa all'infinito nella speranza che il ragazzino si confondesse e cambiasse la storia Ma in verità Aesia non cambierà mai la sua versione dei fatti A differenza poi di quello che diranno più avanti e che diranno i media Inoltre quel 27 aprile la polizia guarderà le mani di Aesia ed erano pulite Ora dire che avesse le mani pulite intendo che non ci fosse nessuna traccia di sangue Ma aveva della sporcizia sotto le unghie E secondo Mark questo proverebbe il fatto che Aesia non aveva cercato di lavarsi le mani Per rimuovere possibili tracce di sangue Inoltre non aveva alcun taglio sulle mani Un fatto strano se pensiamo a qualcuno che pugnala una persona per più di 20 volte Ora Aesia non è un serial killer esperto Quindi immaginiamo più di 20 pugnalate La quantità di sangue che può effettivamente fuoriuscire da un corpo Il coltello si impregna di sangue Il manico si impregna di sangue Essendo un liquido, un fluido, chiamamolo come volete È scivoloso Quindi effettivamente più di 20 pugnalate a forza di darle Oltre all'estrema forza fisica che serve Ma sicuramente il coltello scivola Quindi dall'impugnatura arrivi alla lama e ti tagli Io ho pensato che è abbastanza strano che un ragazzo di 12 anni Non presenta nemmeno un mezzo taglio Dopo che probabilmente ha pugnalato sua sorella di più di 20 volte Ora il giorno seguente, ovvero il 28 aprile Mark l'avvocato conferma che Barney si reca in centrale E chiede agli agenti cosa potesse fare per aiutarli nella cattura del killer E decide lui stesso di raccontare un fatto estremamente importante Un punto che potrebbe ricollegarsi alla descrizione dell'uomo ispanico fatta da Aesia E non so se siete pronti ma preparatevi perché questa cosa qua è veramente assurda Ed è pazzesco, è assurdo Chiamatelo come volete che nessuno ne abbia mai parlato sui giornali Se non un'intervista di due ore ritrovata per puro caso su un canale YouTube fatto solo da 500 iscritti E' assurdo, ma preparatevi Quando viveva a Stockton, che si trova all'incirca 63 km a sud-est da Valley Springs Aveva speso diversi anni a vendere metafetamine con la mafia messicana I detective gli chiedono quanto guadagnasse con la vendita di sostanze E Barney rispone 500.000 dollari ogni 6 mesi Credo ovviamente a suo figlio perché quando faceva il venditore di sostanze rubava costantemente alcune di queste E poi per uscirne decide di scappare da Stockton Barney di sua spontanea volontà vuole raccontare questa storia detective Nella speranza di poter aiutare a rintracciare il killer di sua figlia E prima del suo arresto Aesia, passato quel 27 aprile, verrà richiamato due settimane dopo in centrale Per essere interrogato nuovamente perché a differenza di quanto detto nelle rassegne stampa I detective avevano puntato gli occhi su di lui fin dal primo giorno E con questo ci tengo a sottolineare di stare molto attenti nel leggere quello che troviamo sui media Quello che troviamo in generale su internet Perché spesso ci viene data una versione dei fatti E per questo che reputo molto importante quando faccio le ricerche sui casi Di trovare nell'angolo anche più nascosto di internet Per darvi delle spiegazioni che siano più chiare e più complete possibili Ora passano due settimane, cioè altri due E viene interrogato nuovamente Barney a questo punto dice a suo figlio che per quanto non gli piacesse la polizia Doveva essere estremamente cooperativo Perché doveva aiutare a trovare il killer di sua figlia E quel giorno viene interrogato da un agente di polizia Un detective della Contea e un agente dell'FBI La polizia per farlo confessare gli chiede di dire la verità Dicendo di essere una persona malata E loro avrebbero fatto di tutto per aiutarlo E l'agente dell'FBI gli dice che avevano analizzato la chiamata al 911 Utilizzando esattamente queste parole Nuove tecnologie scientifiche In grado di far capire se qualsiasi persona è colpevole o no E questo è stato il momento in cui Aesia dice esattamente queste parole Perché si sente forse in colpa E come i ragazzi se gli avessero fatto il lavaggio del cervello E quindi dice Boh, forse l'ho fatto No, non mi ricordo se l'ho fatto Ma aspetti Ma se lei mi dice che l'ho fatto Allora dai, penso di sì Ma io non mi ricordo Cioè io non l'ho fatto Io non ho ucciso mia sorella Ma queste erano le parole che si aspettavano i detective L'FBI e via dicendo Tanto che lo considereranno come una confessione Ma prima di essere ammanettato Aesia abbraccia suo padre E gli dice Di non aver fatto del male a Leila E Barney gli risponde So che non l'hai mai fatto Figlio mio Il 14 maggio Aesia è stato accusato di omicidio di secondo grado Questo perché i detective non potevano provare che avesse premeditato l'attacco Ad ogni modo la madre biologica di Leila, Priscilla Rodriguez, non crederà a questa storia Dicendo che Aesia fosse legatissima a sua sorella E che non le avrebbe mai 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 fatto del male Essendo Aesia poi un minore Non poteva essere giudicato come un adulto E probabilmente si sarebbe preso solo un periodo in riformatorio Anche se sappiamo in alcuni casi che spesso dei minori sono stati considerati Dinanzi alla corte come degli adulti Però in questo caso non sarebbe stato così Come in tutte le famiglie c'è sempre un passato E in questo caso è anche piuttosto turbolento E una piccola parte l'abbiamo sentita in quell'incontro del 28 aprile Tra Barney e la polizia I Fowler hanno sempre, sempre avuto problemi economici E Barney si era ritrovato in battaglie legali Per il mantenimento dei suoi figli con quattro donne diverse Per un totale di sette bambini È stato anche arrestato il 16 luglio del 2009 Per aver fatto eruzione all'interno di un magazzino E Barney dice di averlo fatto perché il proprietario gli doveva dei soldi E questo gli è costato tre giorni al fresco E ha dovuto pagare 300 dollari in restituzione a quello che aveva rubato Priscilla poi prendeva un assegno di invalidità di 533 dollari al mese Di cui ne dava 114 sempre al mese a Barney E i documenti del tribunale dimostrano come sia stata tagliata ampiamente fuori dalla vita di Aesia e Leila I due infatti vivevano con i genitori biologici Ovvero Priscilla e Barney Fino a momenti in cui l'uomo non si era trasferito con i suoi figli a Valley Springs E a quanto ho capito effettivamente lui ha preso Si è portato via i suoi figli senza dire nulla alla moglie E in una deposizione giurata poi del 2014 Priscilla ammette Quando non sono più stato in grado di dare i miei soldi a Barney Fowler Non mi ha più detto nulla dei miei figli Prendo una pensione di invalidità e riesco a mala penna a sopravvivere Sono una senza tetto Quando gli ho dato per l'ultima volta i soldi lo scorso anno sono addirittura rimasta senza cibo Non ero in grado di sostenere finanziariamente i miei figli Non potevo dare a Barney dei soldi Sono costantemente alla ricerca di un lavoro Sperando sempre di riuscire a parlare e vedere i miei bambini Ma l'avvocato dei Fowler ci dice all'interno dell'intervista che Priscilla non vedeva i suoi figli Ma non perché non avesse i soldi Perché era dipendente dalle sostanze Sin da quando Leila aveva un anno e esiglia 5 Dunque non sarebbe per una questione di soldi ma per motivi di dipendenze E a quanto pare come affermato da Barney Fowler Ci sarebbero dei documenti del tribunale che affermerebbero questa tesi Tra l'altro ora che stiamo unendo tutti i pezzettini del puzzle Capiamo il motivo per il quale Barney abbia deciso di trasferirsi Effettivamente a Valley Springs con Isaiah e Leila Uno, tecnicamente per proteggerli dalla mafia messicana Visto i problemi grossi che aveva avuto con loro E due, perché effettivamente la sua ex moglie era anche lei dipendente dalle sostanze E questo punto fondamentale lo ha messo anche lui davanti ai detective Lo ha fatto proprio per sparire dal giro della mafia messicana Perché sicuramente sarebbero venuti a cercarlo Ed è assurdo che la polizia non abbia fatto nulla per prendere in considerazione anche questa possibile tesi A questo punto dopo l'arresto di Isaiah La chiamata al 911 che avete sentito a inizio video viene finalmente rilasciata al pubblico E come sappiamo non l'ha effettuata Isaiah Ma la sua matrigna Crystal Barney ammette di credere alla testimonianza di suo figlio E che non avrebbe mai ucciso sua sorella E che le accuse della polizia devono essere supportate da prove concrete Il procuratore distrettuale Barbara Huck dice che Isaiah aveva ucciso sua sorella per poi ripulirsi E chiedere aiuto un'ora dopo E un altro punto molto importante all'interno di queste indagini Sono proprio le tempistiche che non combaciano Rispetto a quello che ha riferito la polizia Rispetto all'autopsia E ci arriviamo anche qui perché mi farà caponare tanto così la pelle Quello che sentirete E quello poi detto dall'avvocato E in questo momento Proprio per i mille dubbi I detective rilasciano le informazioni al pubblico Dicendo di aver interrogato Isaiah più volte Per avere maggiori informazioni su quel tragico giorno Ma ripeterà la solita versione dei fatti Con delle incongruenze Bradley Swanson Un'assistente del direttore del laboratorio Del dipartimento di giustizia della California Testimonia durante il processo Dicendo di aver ritrovato delle gocce di sangue Nel lavandino della cucina e sulla porta della cucina Che dava al garage Invece documentazioni fornite da Mark L'avvocato dei Fowler Durante il processo confermano che Nessun tipo di traccia di sangue Era stata ritrovata nelle tubature Nei tappi e nei lavandini stessi Non era nemmeno presente Nessuna traccia di possibili prodotti Per la polizia tipo candeggina Inoltre la polizia Non ha in mano alcuna prova concreta Che colleghi Alizia all'omicidio di sua sorella L'unica cosa che avevano Era la sua confessione Tra mille virgolette Chiamiamola confessione E quando avevano analizzato Uno dei tanti coltelli da cucina dei Fowler Solo su uno di questi Verranno ritrovate delle tracce di sangue umano Che poi era stato accuratamente lavato E riposto nel cassetto della cucina Perché a questo punto Un uomo che si introduce in casa E poi compie un delitto Dovrebbe lavare il coltello Che ha utilizzato sporco di sangue E poi però lo asciuga E lo ripone il cassetto Che senso ha? John l'investigatore privato dei Fowler Dirà un fatto estremamente importante La sera dell'omicidio Arriva sul posto un coroner da Stockton Per svolgere l'autopsia sulla piccola Leila E durante l'autopsia al coroner Sono stati dati due coltelli da cucina Che avevano delle tracce di sangue Provenienti da casa Fowler E John chiede al medico legale Uno di questi potrebbe essere l'arma del delitto E il coroner gli risponde No, non sono compatibili E non possono essere le armi utilizzate nell'omicidio Il patologo Forense dell'accusa Invece conclude che Molte delle ferite riportate da Leila Erano talmente piccole Quasi come se qualcuno Avesse provato a intimidirla Prima di ucciderla E se un estraneo fosse entrato in casa Avesse ucciso Leila In quel brevissimo lasso di tempo Che aveva descritto Isia Era impossibile Che gli avesse inflitto quelle ferite Perché erano veramente molte Cioè, ragazzi miei, più di 20 Ora, questa è la conclusione dell'accusa Ma in quell'intervista di cui vi ho parlato La difesa ha riportato Che dentro il manico di uno dei coltelli da cucina È stato ritrovato del sangue E quel DNA apparteneva proprio alla piccola Leila Ma nessuno dei coltelli presenti a casa Fowler È compatibile con le ferite riportate sul corpo della bambina Dunque, come ci sia finito il DNA di Leila Su quel coltello Resta un vero e proprio mistero Alcuni hanno addirittura speculato Che probabilmente stava giocando quel giorno E così aveva accidentalmente toccato quel coltello E si era fatta male Ma Crystal è sicurissima Che Leila non abbia mai giocato Con nessun tipo di coltello E non si sia tagliata E nel caso in cui questo fosse accaduto Lei sicuramente lo avrebbe saputo Ma ora preparatevi Perché sto per dirvi qualcosa Che sinceramente non so Se vi lascerà a bocca aperta Oppure con la pelle d'oca alta così Perché il giorno in cui il coroner Ha svolto l'autopsia Riceve una mail dallo sceiffo Dalla contea che gli scrive queste esatte parole Salve dottore Sappiamo che ha concluso Che nessuna di questa sia l'arma del delitto Sappiamo che il sangue di Leila È stato però ritrovato dentro il manico del coltello Non è che potrebbe gentilmente Ricalcolare la sua opinione professionale? E il coroner ragazzi miei Farà esattamente Esattamente quanto richiesto Tra l'altro durante il processo Il giudice ha ammesso Come prova ammissibile I risultati riportati dall'Umino Al che per chi non lo sapesse È un composto chimico In grado di emettere luce Reagendo al perossido di idrogeno Detto in parole spicciole L'acqua ossigenata In presenza poi di un catalizzatore Che è solitamente un metallo Come il ferro Ora tramite il luminol Si è scoperto Che le uniche impronte insanguinate Corrispondevano a quelle di Barney Che aveva preso in braccio Leila E l'aveva portata fuori casa E oltre a questa Nessun'altra impronta era stata ritrovata Quindi John e Mark Credono che il killer Avesse fatto velocemente Dentro fuori casa Però non sono state rilevate Nemmeno impronte di Aisia insanguinate E un'altra cosa Molto importante Di cui dobbiamo parlare È che durante quel 27 aprile Sia lo sceriffo E il paramedico Che avevano praticato La manovra di rianimazione Cardiovascolare Sul posto a Leila Rispondono in ospedale Alle domande dei medici Dicendo che il corpo Era ancora caldo Ma nel report Verrà trascritta Una versione diversa Cioè che era freddo Ora non so se voi lo sapete Io l'ho scoperto Tramite proprio questo caso All'interno di questo scritto C'è una cosa che deve essere Necessariamente compilata Ovvero la CRT La capillary refill time Tradotto in italiano Il tempo di riempimento capillare Che è un indicatore fondamentale Dello status circolatorio Se infatti noi premiamo L'unghia con il dito Notiamo che diventa bianca E una volta lasciato Torna immediatamente come prima In questo caso Essendo io chiara di pelle E anche Leila rosa Un normale CRT Cioè riempimento capillare È all'incirca di 1-2 secondi E questo indica un buon flusso sanguigno Mentre un tempo di più di 2 secondi Determina un basso volume E flusso sanguigno In questo report viene scritto Che la CRT di Leila Era inferiore a 2 secondi E questo indicava Che il sangue Stava ancora circolando Quando il coroner Ha dovuto stilare L'orario della morte Ha scritto che era accaduto Alle 10.45 Quindi nel momento in cui I due stavano guardando il film Ok? E quando gli chiedono Per ben 4 volte Se fosse possibile Che Leila era morta Poco prima Dell'arrivo della polizia Lui dice no Il 29 maggio Aesia si dichiara Non colpevole Di omicidio di secondo grado Con un'ulteriore accusa Per aver utilizzato Un'arma pericolosa Il ragazzo Resterà in prigione In isolamento Frequentando le lezioni scolastiche Questo almeno Fino all'ottobre Del 2015 Quando viene giudicato Colpevole E condannato A 16 anni Di riformatorio Ora Legalmente Parlano Non poteva restare Il riformatorio Passato il suo 23esimo Compleanno E era già rimasto In custodia Per due anni e mezzo Da quando era stato arrestato A maggio del 2013 In poche parole Non poteva essere Trattenuto L'informatorio Per più di 11 anni e mezzo La famiglia Fowler Nel 2018 Decide di far ricorso E Aesia Proprio quell'anno Aspetterà un nuovo processo Il 27 giugno Del 2018 In questo Ennesimo Nuovo processo Aesia È giudicato Colpevole Dell'omicidio Di sua sorella E ora La situazione Diventerà Ancora più complicata Punto primo Doveva essere Rilasciato Al compimento Del 23esimo Compleanno Visto che Al momento Del suo processo Era stato giudicato Come un minore Ma il primo luglio Entra in vigore Una legge Per il quale Sarebbe rimasto In carcere Fino ai suoi 25 anni Tutt'oggi Aesia Si trova in carcere E non sappiamo Effettivamente Se uscirà L'età Di 23 O 25 Ma se ci pensiamo bene Molti Moltissimi dubbi Non sono stati risolti Con la condanna Del ragazzo Innanzitutto Perché la polizia Non ha trovato Nessuna traccia di sangue Sui vestiti Di Aesia E un ragazzo Della sua età Sarebbe potuto Riuscire a pulire Così accuratamente La scena Del crimine Inoltre Degli esperti Avevano anche analizzato Il test Del poligrafo Di Aesia Che aveva effettuato All'età Di 15 anni E' stato sottoposto A 6 ore Di interrogatorio Mediante L'utilizzo Del poligrafo Sono Se ci pensiamo Tantissime ore Per un minore E gli esperti Erano arrivati Alla conclusione Che il fatto Che stesse mentendo Era di 2 possibilità Su 1000 Anche perché Penso che sia Piuttosto difficile Se ci pensiamo Riuscire a mentire Per 6 ore Di fila Senza cedere Alla pressione Delle autorità Tra l'altro In California Non so se lo sapete Ma è ammissibile Portare a processo Il risultato Del test Del poligrafo A differenza Di tanti altri Stati americani Ma come tutti Non è da considerare Come prova valida Per poter accusare Oppure scagionare Qualcuno Questo comunque Indicherebbe Nel caso in cui Gli esperti Avessero sbagliato Che il ragazzo In verità Sia solo Un bravissimo bugiardo Tra l'altro Erano state rilevate Delle impronte digitali E molte di queste Ovviamente Corrispondevano I componenti Della famiglia Fowler E anche Di alcuni agenti Che erano accorsi Sul posto Mentre poi C'erano due sconosciute Che sono state rinvenute All'interno Della stanza Di Leila E un'altra Sul telaio Della porta Ma purtroppo Non è mai stato Trascritto Nulla di tutto ciò All'interno Del report Redatto Dalla polizia Infine Arriviamo Al DNA Di un uomo Sconosciuto Ritrovato Sui capelli Di Leila Su internet Girava una notizia In base al quale Si diceva Che era stato ritrovato Un capello All'interno Dello slip Di Leila E si diceva Che probabilmente Appartenevano Sconosciuto Quel capello Poi verrà analizzato E in verità Si scoprirà Che apparteneva Alla stessa Leila E Mark Il legale Dei Fowler Vorrebbe far analizzare La traccia genetica Rinvenuta Sui capelli Della bambina Ma Non si sa Per quale motivo Il procuratore Distrettuale Non l'ha mai ritenuta Così importante Dunque è molto complesso Che oltre Ogni ragionevole Dubbio Aizia Fowler Sia il colpevole Dell'omicidio Di sua sorella Leila Fowler Questo perché Sono state ritrovate Quelle impronte Appartenenti Ad uno sconosciuto Il DNA Ritrovato Sui capelli Di Leila Che non apparteneva A nessun Fowler L'orario del decesso Del coroner Che corrisponde Al momento in cui Aizia chiama La sua matrigna Crystal E poi lei contatta Immediatamente Il 911 E infine Aizia era Completamente pulito Non aveva Alcuna traccia di sangue Sui suoi vestiti E nessun taglio Sulle sue mani E soprattutto questo Lo reputo Un dettaglio Praticamente Impossibile Ma a questo punto Mi lascio Con questa domanda Se non è stato Aizia Chi ha ucciso Leila? Perché la polizia Non ha mai Veramente indagato Sulla pista Dell'uomo ispanico? Perché la polizia Non ha mai indagato Sulla pista Della mafia messicana? Perché non hanno Ricollegato il passato Di Barney Con la mafia? Con la descrizione Fatta da Aizia Esattamente riportata Anche nella chiamata Registrata al 911 Di quel 27 aprile 2013 Mentre lui Si trovava fuori La porta di casa Aspettando L'arrivo Di Barney Crystal Ma prima di lasciarvi Vorrei anche Raccontarvi Questo piccolo aneddoto Cioè Parlarvi brevemente Anche Della storia Della casa Dei Fowler Ora Quell'immobile Era in affitto E l'affittuario Che c'era Prima Dei Fowler Piantava Mariana In particolar modo Nella stanza Dove dormiva Leila Quando i Fowler Si sono trasferiti Dovevano tenere Alzate le finestre Visto l'odore Insopportabile Che c'era Come potete Immaginare All'interno Di quella stanza Che non era Dei migliori Addirittura All'interno Di quel loro appartamento Prima che loro Si trasferissero Ci vendevano Delle armi Illegalmente E quindi Potrebbe esserci Una possibilità Secondo Mark E John Che un malvivente Si è entrato Dentro la stanza Di Leila Perché magari Voleva rubare Delle sostanze E poi avendo visto Lì la bambina Avesse deciso Di ucciderla Purtroppo Questo caso Ci ha lasciato Con più domande Che risposte E me ne rendo conto Ma io spero Vivamente Che prima o poi Venga fatta giustizia Per la piccola Leila Fowler Una bambina Di soli 8 anni Che aveva Una vita intera Davanti a sé Queste erano Tutte le fonti E le informazioni Che sono riuscita A trovare Per questo caso Veramente sconvolgente Fatemi sapere voi Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Inoltre se volete Supportarmi Qui sotto Nell'info box Vi lascio Tutti 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 I nomi Dei miei altri social Instagram TikTok E quindi se volete Supportarmi Anche lì Vi consiglio Di passare Detto questo Vi ringrazio tantissimo Vi mando Un enorme abbraccio E ci vediamo prestissimo Con un nuovo video True Crime Ciao Ciao